Radio Bari.cult, gli incontri culturali e musicali in primo piano su Radio Bari. Buon mercoledì a tutti e ben ritrovati su Radio Bari.cult, in mia compagnia io sono Barbara Cirillo per aggiornarvi su quelli che sono gli eventi della settimana, più importanti, più divertenti, anche più strani a volte. Io do il benvenuto ai miei ospiti questa mattina, Patrizio Giornetti e Nicola Covetta. Buongiorno, perché parleremo di un evento inserito in calendario, di un musico, di uno spettacolo tutto incentrato sugli anni 70-80, quindi per tutti gli appassionati del genere ci sarà veramente tanto da parlare e da raccontare soprattutto, però come al solito parliamo con quelli che sono gli eventi della settimana. Questo mercoledì 5 giugno, registi fuori dagli schermi, presenta Beckett di Davide Manuli al Cineporto alle ore 18. Giovedì 6 giugno, Daily De Marzo Trio Live al Reverso alle ore 21.30. FIMU 2013 presenta The Yes Consort in viaggio in Italia all'Alba del Barocco al Palazzo Ateneo nel Salone degli Affreschi alle ore 18. Lezioni di rock, ultimo appuntamento con Pink Floyd Quadrophonic Experience a cura di Ernesto Ostante e Gino Castaldo al Teatro Petruzzelli alle ore 21.00. Nemici di Tex, Littiba Tribute Band al Crossroad Saloon alle ore 21.30. Dal 6 al 9 giugno, Sei Contemporaneamente, mostra a cura di REC, ricerca estetica contemporanea, Torre Pelosa, Torre Mare alle ore 19.00. Mostra aperta dalle 18.00 alle 21.00. Dal 6 al 16 giugno, Two Memory Rooms, mostra a cura di Giuliana Schiamone alla Galleria Spazio Giovani alle ore 19.30. L'apertura della mostra invece tutti i giorni ci sarà dalle 17.00 alle 21.00. Venerdì 7 giugno, Dark Side of the Crown al Teatro Team alle ore 21.00. Il 7 e l'8 giugno, Gara Nazionale di Agility Dog al Di Parma Sport dalle ore 18.30. Sabato 8 giugno, Bari Guitar Day alla Music Academy Bari alle ore 10.30. Tre Allegri Ragazzi Morti nel Giardino dei Fantasmi Tour al Teatro Chismet Opera alle ore 21.30. Fashion for Social, I Wear, I Care nell'altro del comune di Gioia del Colle alle ore 21.00. FM Fiorella Manoia Cover Band, Io non ho paura di quello che le donne non dicono, organizzato da Unica in collaborazione con il centro La Luna nel Pozzo. Ed infine fino a 8 giugno, Metamorphosis, Bari International Music Festival 2013 all'auditorium Lavalisa. Radio Bari.com, persone speciali su Radio Bari. Per oggi ci concentriamo su un appuntamento, come abbiamo accennato prima, un appuntamento, uno spettacolo, un grandissimo spettacolo dedicato agli anni 70, agli anni 80, insomma la musica e i colori. Si parte dagli anni 70, ha la musica e i colori e i balli di quell'epoca. Lo spettacolo sarà? Sarà, si chiama infatti 80 voglia di 70, fra un po' mostreremo anche nella locandina. Esiterà a Bari su una spiaggia favolosa, accesso C da Bari via Napoli, la spiaggia si chiama Mare Dentro e praticamente noi con il nostro coro, che è un coro completamente gospel, per la prima volta in assoluto, credo fosse proprio in assoluto, almeno in Italia, un coro gospel, canta live con una band, musica anni 70, discoteca, praticamente solo disco. BG's, Barry White, Gloria Gaynor, Donna Summer, voglio dire, ci siamo spaziati un po', abbiamo avuto anche difficoltà nella cernita dei brani, perché ne abbiamo fatti... E certo, ce ne sono talmente tanti di quegli anni, insomma. E che sono cantati, ma al tempo stesso anche, tra virgolette, mi permetti Nico di dire ballati, perché poi, subito dopo di noi, parte la vera ragione del ballo, che sarebbe quella del mondo del Caribe, con tutto ciò che poi lui spiegherà. E' una cosa importante, è una cosa più importante di questa, noi abbiamo cercato con Nico di abbracciare più di una generazione, perché negli anni 70, forse tu non eri nata, io ero ragazzino. Però sono, diciamo, sono anni che non passano mai di moda, assolutamente, hanno fatto effettivamente così storie, sono dentro la storia della musica, del costume, che poi ritornano, ovviamente c'è sempre un ritorno, no? Di moda, quindi gli anni 70 e 80 sono tornati, anzi, non passano mai di moda, posso dire. E' un classico, perché tutt'oggi, cioè quando noi facciamo una parte dedicata agli anni 70 e 80, sono sempre dei rimpi-pista. Ecco perché ho voluto abbracciare subito questo, da un'idea di Umberto Jarretti Jr., infatti, ci teniamo a... Certo, certo, ringraziamo tutte le persone che, insomma, hanno organizzato, hanno collaborato all'evento. Noi, diciamo, figuriamo qui come persone, però dietro c'è uno staff... E certo, è sempre così, anche perché portarvi tutti in studio diventa, insomma, si riempirebbe lo studio. Ora è arrivata... Gigi, passala a me così la mostro io, facciamo come facevano gli antichi, ecco, siccome siamo in diretta. Ecco, vi mostriamo la locandina dell'evento, che si terrà il 28 giugno, però, insomma, ne abbiamo voluto parlare con largo anticipo, anche perché è sempre bello parlare di questi eventi, insomma, quando ci si diverte in maniera sana... Sana, sana, sana... E poi, quando poi si possono divertire più generazioni insieme, è sempre bello. Credo che l'obiettivo sia quello, giusto? Assolutamente, assolutamente. Comunque, Barbara, ci devi consentire di ringraziarvi particolarmente, non solo perché stamattina siamo qui con te, con immenso piacere, perché Telebari ha concesso. Noi siamo media partner, come Telebari dell'evento... Infatti, vedrete, Barbara, tanto cantare quanto ballare. Mi scatenerò in pista, anche io, assolutamente. Però, parliamo, insomma, abbiamo parlato della parte del canto, insomma, con questa band, con questo coro gospel eccezionale, però ci sarà anche un lato un po' danzereccio, insomma, dove ci si potrà scatenare, non che con il canto non ci si scateni, ci si scatene in maniera diversa. Comunque, anche mentre cantiamo noi, non lo sono... Sì. Spiega tu che... Che cosa succede? Allora... Mentre si canta, che cosa succede? C'è una disciplina che si chiama Latinaston, che vuol dire, tra virgolette, lotta latina. Ecco, se noi ricordiamo un po' la febbre del sabato sera, ci ricorda un po' quando, diciamo, quando lì ballano, e noi vogliamo un po' ripercorrere un po' tutto questo percorso. Quindi saranno delle sfide di ballo, praticamente? Sì, benissimo. Delle fazioni... Guarda, la musica 70-80. A seguire poi ci sarà la serata tipica nostra caraibica, con salsa, merengue, baciata, rueda del casino e così via. Che poi sono, queste sono delle serate poi, che c'è tutto un mondo intorno a questa musica, questo tipo di danza, no? Perché poi la danza non è soltanto una, ci sono tantissime sfumature e discipline. Però il mondo della danza latinoamericana è un mondo che spesso non si conosce così tanto, però ha tantissimi appassionati. Insomma, sono serate che hanno un sacco di partecipanti, di persone, non sono mai vuote. No, assolutamente. Le piste non sono mai vuote. Si ballo ovunque perché ci divertiamo. Ci sono tre, quattro discipline dove, come dicevo prima, baciata, son, chisomba, un'altra nuovissima disciplina che stiamo lanciando da circa un anno. Ecco, le nostre serate sono belle, cioè belle e piene perché ci divertiamo in modo sano. Eh certo. In modo sano e poi ci porta un po' così nell'immaginario. Lontano, no? Lontano, nei Caraibi. Nei Caraibi, a così, si chiudono gli occhi e si immagina di essere a Cuba. Ed è la fine lì perché poi si riaprono, insomma, e siamo a Bari. Non che Bari sia brutta assolutamente, ma sono due realtà insomma un po' diverse. Assolutamente, abbiamo il nostro lungomare che è simile al Malecon di Cuba. Ah, addirittura? Io non ci sono mai stata a Cuba, quindi non avevo questo termine di paragone. Però sono delle serate, insomma, in cui ci si diverte. Sicuramente in questa serata che si terrà, ve lo ricordo, il 28 giugno al Lido il Mare Dentro, quindi una serata sulla spiaggia. Speriamo che almeno a fine giugno ci sia un po' di caldo. No, no. Sole, no, perché di notte, di sera, però insomma speriamo che ci sia un po' di caldo. Ci saranno circa dai 34 ai 38 gradi. Speriamo che abbiano accettato... Perché il notte ci sarà il sole, guarda. Speriamo noi illuminare la serata. Eh, certo, assolutamente. Quindi ve lo ricordo, tanto ne riparleremo sicuramente. 80 a voglia di 70, il 28 giugno Lido il Mare Dentro. Io vi ringrazio per essere stati miei ospiti. Ovviamente magari ci rivediamo la settimana prossima, insomma a fine giugno, diciamo proprio al margine dell'evento. Grazie per essere stati qui con me. Noi ci rivediamo a tra poco con un punto d'occhio. Grazie. Grazie.